L'hai consegnata a lui, Desiree? Perché ne sapevo io? E' amico di suo zio. Come facevo a sapere che l'avrebbe ammazzata? Vabbè, eh. Dimmi com'è andata. Sapeva che conoscevo Desiree. Mi ha chiesto di portarle in un posto. Poi mi avrebbe chiamato quando era il momento. E tu? Non ti sei fatto pregare? Cannavoi, amico di te Giovanni. Ero contento che mi chiedesse un favore. Mi ha fatto sentire importante. Mamma, va. Continuiamo nell'ufficio, andiamo. Ora non arrestate però. Non mi farà più niente, vero?